Musica Casalbuono respinto il ricorso di Francesco Romano confermata la decadenza. Sala Consiglina e il gruppo Salesi parla di sei mesi di leggerezza amministrativa e inerzia politica. Eboli investita mentre in sella la sua bicicletta muore una 35enne. Padula non chiamatelo amore malato, questa mattina il seminario sulla violenza di genere. Vendemmia 2019 da Coldiretti, ma il maltempo chiude l'annata eccezioni in Campania e Basilicata. Buonasera e bentrovati. In apertura a Casalbuono lo scorso luglio il Consiglio Comunale aveva dichiarato la decadenza dalla carica di consigliere di Francesco Romano per incompatibilità a causa di debiti verso il Comune. Romano aveva presentato il ricorso al Tribunale di Lago Negro che lo ha respinto. Contenziosi aperti per decine di migliaia di euro tra il consigliere Francesco Romano, candidato alla carica di sindaco alle scorse elezioni comunali, e il Comune di Casalbuono che lo rendono incompatibile la carica di consigliere comunale dello stesso Comune verso cui è stato accertato il debito. Una incompatibilità che è stata ora confermata anche dal Tribunale di Lago Negro. Secondo quanto si legge nelle motivazioni della decisione della sezione civile del Foro Lagone Grese, ammonta ad oltre 30.000 euro il debito di Francesco Romano nei confronti del Comune, che di conseguenza ha portato la maggioranza eletta guidata dal sindaco Carmine Adinolfi a sollevare il caso di incompatibilità e successivamente a decretare la decadenza dalla carica di consigliere comunale di Romano, con delibera di consiglio datata 25 luglio 2019. Il consigliere della lista civica per Casalbuono aveva quindi presentato ricorso contro la delibera votata a maggioranza sulla base di dichiarazioni secondo cui nessuno dei debiti riportati in nota fosse accertato e esigibile e su nessuno di essi fosse applicabile il pignoramento e spropriazione forzata, anche perché in diversi casi, secondo Romano, era sopraggiunta la prescrizione. Pertanto la decadenza non sarebbe applicabile per effetto di incompatibilità. Eccezioni che non sono state però accettate dai giudici della sezione civile, che invece, nelle motivazioni, richiamando l'articolo 63 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha ricordato come è da considerarsi incompatibile con la carica di sindaco, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di provincia, chiunque abbia un debito liquido ed esigibile verso l'ente o l'istituto di riferimento. Il collegio giudicante inoltre chiarisce come, su nessuno di essi, è sopraggiunta la prescrizione, essendo state notificate regolarmente le ingiunzioni di pagamento. Da qui la decisione, che confermando la delibera del Consiglio Comunale di Casalbuono dello scorso luglio, in cui veniva stabilita la decadenza dalla carica di consigliere comunale di Francesco Romano, ha respinto il ricorso presentato dallo stesso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese ammontanti in 3.235 euro per le spese di lite. E ora la cronaca tragedia sulla litoranea che collega Eboli a Battipaglia, una 35enne marocchina mentre era in sella. La sua bicicletta è stata investita e uccisa da un'automobile. Travolta e uccisa mentre era in bici lungo la strada provinciale 175 Litorania, in località Lidolago di Eboli. È morta così sul colpo Jihan El Asbai, una 35enne di origine marocchina. Alla guida dell'auto una Citroen C3, un 24enne ebolitano, subito fermatosi per prestare soccorso. Il giovane rischia ora l'incriminazione per omicidio stradale da parte dei carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Luca Geminale, che hanno eseguito sul posto tutti i rilievi del sinistro. Vani i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. La salma è stata condotta dopo un primo esame esterno da parte del medico legale presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli per gli ulteriori accettamenti. Il veicolo e la bici sono stati sottoposti a sequestro. La strada provinciale litoranea si conferma purtroppo scenario di incidenti mortali. Vittime in particolare pedoni e persone in bicicletta, spesso extracomunitari. Una trafficata arteria stradale alle prese con problematiche legate alla scarsa visibilità, al manto accidentato e costellata di intersezioni, ma percorsa troppo spesso ignorando i limiti di velocità. Leggerezza amministrativa e inerzia politica. Due aspetti che hanno caratterizzato questi primi mesi di amministrazione cavallone a Sala Consilina. A sostenerlo il gruppo consigliare Salesi, che questa mattina presso il Bar 58 in località Trinità, ha tenuto una conferenza stampa per fare un bilancio di quanto è stato fatto finora. Tanti punti toccati dai quattro membri del gruppo intervenuti, ex tribunale, carcere, scuole medie di Trinità, l'asfalto delle strade, tutte situazioni che sono ferme al palo e prese ad esempio da Salesi per descrivere l'incapacità politica degli attuali amministratori, i quali è stato ribadito a più riprese stamattina, falliscono nel momento in cui decidono di ricorrere solo ed esclusivamente alle aule dei tribunali per andare avanti nella programmazione piuttosto che impegnarsi nell'attività di mediazione propria della politica che sortirebbe di sicuro esiti più concreti. Il disinteresse verso il territorio e la comunità si sta manifestando, hanno detto, anche in relazione ad esempio alle aree giochi dimenticate, tanto in periferia quanto in centro città e recuperate grazie all'intervento di privati e di associazioni. In sintesi, Salesi imputa all'amministrazione il limitarsi all'ordinario e la mancanza di visione, così come la mancanza di trasparenza nella gestione della cosa pubblica e nell'assunzione di decisioni i cui effetti ricadono su tutta la comunità. Come gruppo di opposizione hanno confermato la disponibilità a collaborare e votare a favore di qualsiasi iniziativa che riterranno meritevole. Intanto stanno studiando una serie di questioni che richiede attenzione, quale il canile comprensoriale, la situazione del consorzio sociale, il PUC e continueranno ad insistere per la predisposizione del regolamento comunale che disciplini lo streaming delle sedute consigliari. Ma ascoltiamo Domenico Cartolano. Noi evidenziamo questo, la poca valenza politica dell'intera amministrazione perché lo abbiamo visto in Consiglio Comunale quando abbiamo proposto la delibera del Tribunale e abbiamo chiesto che venisse trasmessa alle autorità politiche, quindi regione, provincia e ministero, l'amministrazione, il sindaco, con un suo emendamento, ci ha chiesto che venissero salciati perché lui ditiene che non ci sia il livello politico, non sia in grado di risolvere le problematiche. Siccome noi pensiamo che la politica è un'arte nobile, la politica è mediazione, quindi lasciare fuori il livello politico significa non risolvere il problema, a nostro avviso. Quindi riteniamo che questo sia per noi inimmaginabile perché è giusto che tu faccia ricorso ma non possiamo rivolgerci per ogni problema negativo, per ogni diniego al TAR o al Consiglio di Stato perché questo lo fanno i commissari. Tu sei un sindaco, l'amministrazione è politica ed è deputata da amministrare e deve avere rapporti con gli organi sovracomunali. Quando la politica demanda la magistratura è la sconvitta della politica. Non vuoi lamentarsi che De Luca non si è costituito al TAR per il ricorso contro la chiusura delle carceri ma De Luca è un politico, tu dovevi andare dal presidente prima di fare il ricorso al TAR una volta chiuso per tentare di avere una mediazione con la politica, con il ministero da fare la trame. Qualora questo non ci fossero stati i presupposti allora è giusto che tu ricordi al TAR. Noi salviamo il carcere e il tribunale nel 1995 con il ministro Castelli perché ci fu una mediazione politica. Si ricordano bene i cittadini che cosa è successo a quel periodo con l'occupazione del tribunale del carcere. Con la mediazione politica avendo un governo opposto alla fazione che amministrava Sala Congelina opposto all'amministrazione provinciale, opposto all'amministrazione regionale noi riuscimo ad avere un risultato. E' chiaro, quando questo non è bene è giusto che tu ricorra all'autorità giudiziale. Noi questo è quello che evidenziamo e quello che noi denunciamo. Ma abbiamo un altro merito, l'ho detto prima e lo ribadisco oggi quello di aver cambiato non solo la campagna elettorale perché abbiamo elevato il livello politico ma anche di fare opposizione. Noi come diceva la collega prima, noi non siamo all'opposizione del no. Lo abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale perché quando gli argomenti vengono condivisi e partecipati dalle commissioni noi votiamo a favore. Quindi noi non abbiamo interessi personali o rivendicativi nei confronti di chi ha vinto o di chi ha perso. Per noi l'interesse del Paese viene prima di tutto. E qualora l'amministrazione intende collaborare, partecipare alle problematiche e discutere noi lo abbiamo dimostrato con i fatti che votiamo a favore. Come dicevo prima, il nostro sogno è quello che si possa arrivare a votare sempre all'unanimità perché vuol dire che c'è un'amministrazione partecipata. Nel rispetto dei ruoli, noi non vogliamo scavalcare i ruoli. Ha vinto democraticamente l'amministrazione salaviva ed è giusto che amministri. Noi rappresentiamo metà del Paese perché siamo arrivati secondi quindi con metà del Paese che ha sostenuto la lista salesi e vogliamo dare il nostro contributo nel rispetto dei ruoli. Siamo agli inizi di novembre e già sono stati superati i tetti di spesa per la sanità convenzionata. L'ASL di Salerno ha reso note le date dei possibili stop alle prestazioni. Gli esami potrebbero essere a pieno carico degli utenti. Puntuale come un orologio svizzero, da stamattina scatta un nuovo blocco delle convenzioni per le analisi del sangue e le radiografie in regime convenzionato nell'ambito dell'ASL Salerno. Sono già esauriti i tetti di spesa trimestrali, ovvero le risorse da dare al privato accreditato per il periodo ottobre-novembre-dicembre. L'ASL ha comunicato ai centri privati convenzionati le date di esaurimento dei tetti di spesa per esami di laboratorio e diagnostica. Domani, 10 novembre, termina il budget per la cardiologia, mentre per la pneumologia ci sono risorse fino a fine anno. La speranza è che dopo la trasmissione dei dati ufficiali che tutti i centri devono inviare entro il 10 novembre ci possa essere qualche modifica alle date presunte di sforamento. Se confermate, invece, fino alla fine dell'anno i salernitani che hanno bisogno saranno costretti a pagare di tasca propria l'intero importo delle prestazioni sanitarie richieste, non potendo soffrire delle convenzioni. Altrimenti devono inserirsi nelle liste d'attesa delle strutture pubbliche con i tempi ben noti a tutti oppure l'altra triste scelta è di rinunciare alle cure. Mesi duri per tanti utenti, dunque soprattutto per quelli appartenenti alle fasce più deboli, ovvero gli anziani e gli esenti, per affrontare la criticità degli sforamenti dei budget assegnati alla specialistica ambulatoriale accreditata c'è bisogno di interventi strategici. Da Palazzo Santa Lucia sembra inizi a muoversi qualcosa, pare che in questa fase di programmazione 2020 la Regione abbia seriamente intenzione di rivedere i finanziamenti alle strutture accreditate e di aumentare i valori massimi di prestazioni autorizzati rendendoli più vicini alle reali esigenze. A questo poi si aggiungerebbe anche una rimodulazione dei periodi di monitoraggio che passerebbero dall'attuale riparto trimestrale a quello a sei mesi o addirittura tornare a quello annuale. Oggi per tutta la giornata presso la sala conferenze della Certosa di San Lorenzo a Padula si è svolto un seminario sulla violenza di genere, un appuntamento che grazie ad illustri relatori ha consentito un'analisi dettagliata del fenomeno. Non chiamatelo amore malato è il tema del seminario promosso dall'avvocato Giuseppe Aiello esperto in scienze criminologiche in programma da questa mattina presso la sala conferenze della Certosa di San Lorenzo a Padula. Un tema di forte impatto che nella giornata di oggi, grazie alla presenza di illustri ed esperti relatori ha consentito di analizzare il tema in ogni sua parte partendo dalla necessità di denunciare per consentire a chi è nelle condizioni di poter intervenire e di farlo e quindi di prevenire e verificarsi di eventi drammatici il seminario ha visto anche interventi di biologi e criminologi che analizzando le scene del crimine hanno potuto notare come il sentimento dell'amore forte si confonde con l'odio feroce fino a portare all'omicidio. Importante l'intervento al convegno anche del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Gianluca Trombetti che ha sottolineato l'importanza in primis per le donne di rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere aiuto e non attendere un cambiamento della persona violenta che spesse volte non arriva. Sono stati fatti tanti passi avanti anche dal punto di vista normativo ci sono degli strumenti di tutela che in passato non c'erano e credo che sia cresciuta anche un po' la consapevolezza della gravità di questo fenomeno talvolta rimasto nella prova famiglia, nella cerchia intrafamiliare e ben vengono queste iniziative che servono a diffondere, a divulgare la gravità di una contrazione dei diritti di una persona e una contrazione dei diritti di una persona che fa parte di una fascia debole quale appunto può essere una donna e invitiamo a coinvolgerci, invitiamo le donne a chiedere il nostro aiuto Non è la prima volta che ce ne stiamo occupando sia come studio legale ma soprattutto come associazione rinascita meridionale e già da qualche anno che ce ne stiamo occupando anche insieme ai vari collaboratori come il professor Agostini, biologo forense il professor dottor Caruso, criminologo e il dottor Rivelli Noi crediamo che molte informazioni anche tramite massimedia siano dissorte e vengono date più delle volte in una forma sbagliata quindi abbiamo ritenuto che la prima informazione corretta che va data alle donne che subiscono questi reati così efferati è proprio la prevenzione di sensibilizzare e di stigmatizzare questo mondo che sembrerebbe essere molto omertoso mi riferisco al mondo delle donne in particolare che subiscono purtroppo da sempre ormai violenze da parte degli uomini ma soprattutto cercare di sensibilizzare la platea anche per quanto concerne la tutela dei soggetti vulnerabili i soggetti vulnerabili sono i bambini, prima di tutto le persone più anziane quindi coloro che effettivamente subiscono una violenza diretta e indiretta dalla discriminazione di natura sessuale oggi questo convegno è di natura multidisciplinare si presta molto a tante tematiche sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo psicologico e anche sotto il profilo operativo infatti noi abbiamo al tavolo dei relatori c'è il colonnello Trombetti che ci ha già illustrato in maniera brillante di come potrebbero essere i servizi posti in essere da parte dell'arma nei confronti del cittadino la norma penale, quella che dovrebbe tutelare i soggetti vulnerabili è certamente l'apice ma in realtà sappiamo perfettamente che c'è un sostrato sociale che a volte non consente di tutelare la vittima in primis o il soggetto vulnerabile in quanto tale bisognerebbe appunto, e questo è anche l'oggetto del convegno cercare appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica su come possono essere tutelati Questa mattina il comitato se non ora quando Vallo di Diano ha voluto incontrare i giovani per una mattinata dedicata al ricordo delle 26 giovani migranti decedute durante una traversata nel Mediterraneo il caso si verificò nel 2017 anche il Vallo di Diano si offrì per dare degna sepoltura alle giovani vittime tutte di età compresa tra i 14 e i 18 anni a distanza di due anni dall'accaduto il comitato ha voluto ricordare le sei donne sepolte nei diversi cimiteri valdianesi apponendo una pietra d'inciampo davanti alla sede del liceo classico a Sala Consilina a seguire poi c'è stato un convegno sul tema inciampando nella solidarietà alla presenza del direttore del Consiglio Italiano Rifugiati Abbiamo inteso apporre questa pietra d'inciampo davanti all'ingresso del liceo Marco Tullio Cicerone proprio perché i ragazzi nel momento in cui varcheranno la soglia dell'ingresso del liceo possano idealmente inciampare ma come dicevo prima e come dicevo stesso ai ragazzi non è un inciampo fisico ma attraverso il calpestio di questa targa possano inciampare visivamente e questo inciampare visivamente deve per loro significare avere risvegliare nelle loro coscienze soprattutto dei ricordi e quei valori che oggi diciamo si sono un po' assopiti soprattutto nei giovani Ecco, ho spiegato loro naturalmente attraverso la redazione di un volandino perché non era possibile farlo questa mattina il significato della pietra d'inciampo quando è nata, perché è nata e l'artista che l'ha realizzata Sono vicende distinte perché i nostri giovani hanno un livello anche culturale un'aspettativa di lavoro molto diversa dalle persone disperate che sbarcano nel nostro sud persone disperate che sbarcano nel nostro sud e che invece si sbarcano spesso sfruttate e queste zone la mia campagna è una delle regioni che vede questi fenomeni di sfruttamento molto molto crescere in agricoltura nei servizi alla persona anziché in altri settori dell'economia quindi diciamo due vicende che non si incrociano a mio avviso che vanno gestite però con intelligenza e capacità di leggere il futuro una visione del futuro noi abbiamo delle responsabilità verso queste persone che arrivano abbiamo il dovere e anche l'interesse mi faccio dire un termine magari che può sembrare brutto ma l'interesse è che queste persone facciano parte della nostra comunità nazionale di uno del loro contributo naturalmente nel rispetto anche dei loro diritti e delle loro aspettative ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio si conclude la vendemmia per questa stagione complice il maltempo degli ultimi giorni le stime di Coldiretti nel prossimo servizio con l'arrivo del maltempo si conclude la vendemmia 2019 che per effetto del clima anomalo registra un taglio della produzione del 20% rispetto allo scorso anno in pratica si perde una bottiglia di vino made in Italy su 5 anche se l'Italia mantiene comunque il primato mondiale tra i produttori e quanto emerge dall'ultimo bilancio dei Coldiretti la vendemmia 2019 inizia da quest'anno il 7 agosto tra le più anticipate dell'ultimo decennio e dopo poco più di tre mesi di raccolta lungo la penisola restano da completare pochissime vigne di varietà tardive come l'Aianico nelle aree interne di Basilicata e Campania si è dunque concluso un'annata di buona qualità con una stima di circa 44,3 milioni di ettolitri di produzione made in Italy destinata per circa il 70% precisa Coldiretti a vini a denominazione di origine controllata con il restante 30% riservato ai vini da tavola se il nostro paese si conferma al primo posto nel mondo la Francia ci insidia da vicino con un quantitativo di poco inferiore 42,2 milioni di ettolitri i vigneti italiani con i suoi 658 mila ettari di terreno coltivati offrono opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate direttamente nei campi nelle cantine e nella distribuzione commerciale ma anche in attività connesse e di servizio l'esercito del vino conclude Coldiretti spazia dai viticoltori agli addetti nelle cantine alla distribuzione commerciale ma anche alle attività connesse dall'industria vetraria a quella dei tappi dai trasporti alle assicurazioni da quella degli accessori come cavatappi e sciapole dai vivai agli imballaggi dalla ricerca e formazione dalla divulgazione Eva immediato sarà a Caggiano domani sera per presentare il suo spettacolo omaggio alla grande Frida Kahlo uno spettacolo che ha suscitato grande interesse grazie alla magistrale interpretazione dell'attrice che dell'artista racconta le tragedie l'arte i momenti malinconici affrontati con forza e determinazione lo spettacolo racconta anche dell'amore incondizionato di Frida Kahlo per Diego Rivera che nonostante la separazione sarà vivo lei per tutta la vita accompagnandola fino alla morte sopraggiunta nel 1954 all'età di 47 anni domani sera alle ore 19 presso lo studio multimediale dell'architetto Giuseppe Caffaro sarà di scena lo spettacolo Io Frida per la regia di Eva immediato accompagnata dall'arpa di Daniela Ippolito l'evento è organizzato in collaborazione con Franco Morrone sarà anche occasione per ammirare le opere dell'artista Anna Maria Grippo e andiamo avanti questa mattina a Salerno i ragazzi di Gioventù Nazionale si sono riuniti per celebrare 30 anni della caduta del Muro di Berlino la caduta del Muro di Berlino non è solo un evento del passato da celebrare ma un insegnamento di vita perché costruire muri tra i popoli non è mai la soluzione ed è un appello a lavorare per un'Europa migliore e più integrata la notte di Berlino non è un semplice evento della storia ma deve rappresentare lo spartiacque tra due momenti storici ben precisi con il crollo del Muro la guerra fredda finì e iniziava l'era dell'Europa Nazione capace di essere protagonista principe nello scacchiere mondiale è quanto hanno rimarcato questa mattina gli organizzatori della manifestazione provinciale di Gioventù Nazionale Fratelli d'Italia 9 novembre la festa dei popoli per commemorare i 30 anni della caduta del Muro di Berlino un incontro a Salerno con la partecipazione di Alessandro Sansoni direttore di Cultura e Identità del senatore Antonio Iannone e dell'onorevole Edmondo Cirielli questore della Camera dei Deputati l'iniziativa che stamani si è svolta in diverse città d'Italia stamani a Salerno per Gioventù Nazionale Salerno si è data l'occasione per creare un momento di dibattito per ricordare ciò che accadde la notte del 9 novembre a Berlino ma anche e soprattutto per riflettere se le speranze del tempo sono state attese Le pubblicazioni del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni sono state donate alla libreria Ex Libris Cafè di Polla una realtà che sta facendo parlare di sé a livello nazionale e internazionale per le iniziative messe in campo nell'ambito della cultura e dell'ambiente una su tutte rappresentata da un insolito baratto regalare un libro a chi porta un rifiuto di plastico o alluminio idea apprezzata e lodata dallo stesso ministro dell'ambiente Sergio Costa la donazione è il premio che il presidente del Parco Tommaso Pellegrino ha consegnato personalmente a Michele Gentile titolare della libreria Pellegrino ha anche annunciato a breve l'avvio di una serie di iniziative che vedranno protagonisti nel nome del Plastic Free e sotto l'egida del Parco i bambini delle scuole e la Ex Libris Cafè tra i doni alla libreria anche la bandiera del Parco ascoltiamo i protagonisti ho tenuto ad essere presente per complimentarmi con Michele per il lavoro che fa lui magari ci fossero tanti Michele che oggi hanno questa sensibilità sui temi della tutela ambientale il Parco Nazionale del Cilento Valleone Alburni stiamo facendo veramente un grande lavoro sul tema Plastic Free ma soprattutto per far capire oggi l'importanza dell'utilizzo della plastica e come utilizzarla e come cercare di risparmiare un po' e soprattutto pensare un po' di più alla tutela dell'ambiente che ci circonda noi vediamo anche in questi giorni quanti sono siti di grande interesse anche naturalistico riempiti con bottigliene di plastica e quant'altro e allora un'iniziativa che ha messo in campo Michele cioè quella della cultura e dell'ambiente e soprattutto cercare di lanciare un messaggio ai nostri ragazzi riabituiamoli alla lettura riabituiamoli all'odore dei libri io questa mattina qui sentire l'odore dei libri per me è una sensazione straordinaria bella mi riporta anche all'infanzia e dobbiamo far vivere queste emozioni anche ai nostri figli ai nostri ragazzi ecco quindi noi con Michele regaliamo un libro e loro ci danno delle bottigliene di plastica facciamo è un segnale molto forte è un segnale di grande valore è simbolicamente importante e anche questa è la dimostrazione che anche dal sud possono partire delle iniziative belle non a caso il ministro Costa si è complimentato con Michele per il lavoro che lui sta facendo quindi veramente Michele complimenti grazie per questo lavoro continueremo lo faremo anche nelle scuole perché dobbiamo riavvicinare ai libri i nostri ragazzi facendogli capire quanto è importante tutelare l'ambiente che ci circonda quindi veramente un grande grazie per questa tua bella iniziativa quando ho ricevuto la telefonata del presidente Pellegrino sono non dico dico poco se dico che l'attendevo l'attendevo perché sento proprio che questa iniziativa va proprio in linea con le esigenze e con la politica del Parco Nazionale del Vallo di Diano e del Cilento io questa semplice azione simbolica della bottiglia della lattina è nata qui è nata nel Vallo di Diano io vorrei che venisse abbracciata un po' di più e si potesse costruire si potesse costruire qualcosa di importante da lanciare e da portare in tutta Italia perché le attestazioni che sono arrivate dall'Italia sono innumerevoli quindi è un peccato perdere questa occasione ripeto è un'iniziativa molto semplice dove i bambini hanno costruito una favola è un peccato non approfittare e rendere questa favola universale è tutto per questa edizione vi ringrazio per l'attenzione auguro a tutti voi buona serata grazie a tutti